Vittorio, Imola, liceo scientifico. Sono Emanuela, vivo a Milazzo e frequento il liceo classico. Sono Mattia, vengo dalla città di Castello, ho 17 anni e frequento l'Istituto di Geometri. Elena, abito a Lodi e vado a scuola di Ciusci. Giuliana, di Roma, il seo delle scienze umane. Allora, la mia scuola è degli anni 70-80, ma ma ha segni di cadimento, ancora in piedi, il termotto è andato bene, ha una crepe in una classe, ma niente di che. La mia scuola è una scuola abbastanza antica, ci sono dei segni di cedimento, soprattutto all'esterno, perché l'entrata principale è stata bloccata per dei pezzi e delle strutture che cadevano. Quindi sono iniziati i lavori a aprile e marzo di quest'anno e ancora non sono stati in piedi. Allora, è una scuola abbastanza vecchia e dopo le scosse del terremoto, dell'ultimo terremoto, ci sono delle diverse crepe nei pavimenti e nei soffitti. La mia scuola è abbastanza antica e hanno effettuato dei lavori di manutenzione per la struttura, per il consolidamento della struttura. La scuola che frequento è un edificio abbastanza vecchio, fa di scelte, cioè proprio si vede la muffa sulle pareti esterne, cadono i cornicioni, infatti quest'anno ci sono stati anche alcuni interventi da parte della provincia, che tuttavia sono stati interventi di emergenza, quindi chissà fino a quanto dureranno. Le prove di evacuazione vengono fatte due volte all'anno, i punti di incontro sono pochi e non eccellenti come posizione. Non c'è stato spiegato il regolamento, c'è solo stato detto in fila indiana e seguite il primo che verrà nominato. Nella scuola ci hanno spiegato come funziona il piano di evacuazione e abbiamo candidato un apri fila, chiudi fila e un sostegno per i disabili. Abbiamo dei punti di raccolta ben precisi nella scuola. Per quanto riguarda il piano di evacuazione, abbiamo fatto due prove, una organizzata, sapevamo la data, l'altra sorpresa, sono andate bene, non ci sono stati disordini, troppi disordini, le vie di fuga ci sono, i prof di educazione fisica iniziano a spiegare come bisogna reagire, eventuali rischi, eventuali incendi, eventuali terremoti. Le evacuazione nella mia scuola si fanno di solito nel periodo di maggio, giugno, giustamente proprio alla fine del periodo scolastico. Arriva in classe il tecnico che ci avvisa che a distanza di qualche giorno o qualche settimana ci sarà la prova, quindi ci presenta il piano di evacuazione e poi sappiamo quasi il giorno, quindi arriviamo preparati alla prova. Allora, la palestra è un po' stretta, però è subito abbastanza alto, quindi se non si è in troppi si riesce anche a fare dinasticamente. Abbiamo una palestra a scuola? No, allora abbiamo un campetto che è adibito a palestra, c'è una parte asfaltata dove di solito giocano a basket, ma niente di più. Ogni volta abbiamo l'erba alta, in inverno non si può fare educazione fisica perché subito diventa proprio fango, quindi è impossibile farla fuori. La palestra della mia scuola è stata rifatta per alcuni sentimenti strutturali, infatti nei primi due anni in cui ho frequentato la scuola non ho potuto fare educazione fisica. In questa delle barriere architettoniche la mia scuola è abbastanza a posto, a parte l'ascensore che non funziona, quindi nel caso in cui uno studente di qualche classe si faccia male o comunque abbia problemi, la classe viene spostata per un certo periodo sotto al piano terra. Nella scuola non ci sono barriere architettoniche in quanto ci sono diverse passerelle e un ascensore. La scuola è il pomeriggio aperta per eventuali incontri, solo su richiesta al prestito, che di solito dà il permesso, quindi non ci sono problemi. La scuola non rimane aperta il pomeriggio per nessun tipo di attività, neanche per lo studio individuale di una persona, e non accetta neanche progetti che vengono offerti dai studenti. Nella mia scuola rimane aperta il pomeriggio solo in determinati giorni della settimana, in cui il dirigente concentra le attività pomeridiane, quindi corsi di recupero, altre attività, altri bon, progetti vari. Però non c'è ancora la mentalità di vivere la scuola. Noi alunni non rimaniamo il pomeriggio se la scuola è aperta. Noi alunni non rimaniamo il pomeriggio,